La Roma ha appena pareggiato, incredibile, Milan butta via due punti, tre punti incredibili. Vediamo, la grande parata di Tatarusano ha ripreso Abram e la Roma ha pareggiato, incredibile a San Siro. L'ottantasettesimo minuto era ancora 2-0 per il Milan, due colpi di testa e il Milan butta via due punti straordinari. Vediamo, ecco la parata di Tatarusano, riprende Abram e c'è il gol del... Avevamo detto che era una squadra pericolosa sui calci piazzati e la Roma ha fatto male al Milan, incredibile. E adesso il Milan butta via due punti preziosissimi sul piano della classifica, vediamo se riuscirà. I cambi di Pioli non hanno dato molto con quel 3-5-2, poteva lasciare la squadra com'era. Ora, viene avanti ancora il Milan, vediamo se riuscirà Calulu. Attenzione, là, no, pallone dentro, Gabbia, pallone laterale, vediamo. È incredibile il Milan cosa ha buttato via, dopo i gol di Calulu e Povega, sembrava la preda finita. Ma il Milan ci riprova, vediamo, con questo tentativo di Abram, controllata la palla ancora dalla Roma, che viene avanti, attenzione, con questo tentativo, poi c'è un pallone ancora a favore della Roma. Non abbiamo parole, amici, non abbiamo parole. Non abbiamo parole, una Roma inesistente per 87 minuti ed è venuto di due gol. E ora vediamo il calcio di punizione. Vediamo, peccato. Non pensavo proprio che il Milan riuscisse a non vincere questa partita. C'è molto rammarico, attenzione, la Roma con due calci di punizione. Vediamo, adesso viene avanti, cerca di venire avanti ancora. C'è un fallo a favore di Calabria, proviamo. L'ultima occasione, attenzione, tutti avanti. Ecco, vediamo se Tonali... Tonali, vediamo il lancio lungo di Tonali e se Abram... Ecco, ha monito Abram. Vediamo, lancio lungo di Tonali. Vediamo se Milan riuscirà come a Empoli a vincere la partita. Vediamo, lancio lungo. Ecco, la palla lunga, vediamo chi va. Ancora due giocatori del Milan, niente da fare. E' incredibile, non ci sono spiegazioni per questo 2-2. Non ci sono spiegazioni. Incredibile. Roma inesistente per 87 minuti. E poi negli ultimi 5 minuti Milan butta via due punti pesantissimi per la lotta dello Scudetto. Attenzione. Attenzione. E' finita. Il Milan pareggia 2-2.